Nicola Molteni, vieni qua, vieni qua. Grazie. Ma non so se l'ho portata via io o se è stata lei che è volontariamente venuta a Cantubo, non lo so. Io porto solo un velocissimo saluto, vi ringrazio per l'ospitalità e ringrazio tutto il popolo bergamasco che è sempre in prima linea nelle battaglie politiche della Lega. Se non ci fosse il popolo bergamasco avremmo un elemento in meno di battaglia. Abbiamo parlato, hanno parlato del decreto Salvaroma, del decreto Marchette. Io vi dico una sola cosa, io ho la fortuna sfortuna di essere in commissione giustizia o in commissione ingiustizia. Vi posso garantire, ve lo posso garantire sul mio onore e sul nostro onore che se questo governo di Marchettari si permetteranno di portare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane e io vi dico purtroppo lo porteranno l'indulto e quindi se si permetteranno di rimettere in libertà migliaia di criminali a quel punto faremo scattare veramente la guerra. perché non è possibile che in questo momento dove noi dobbiamo pensare alla nostra gente, ai nostri lavoratori e ai nostri giovani questo governo di ladri si permetta di rimettere in libertà i propri simili. Sarà guerra, sarà battaglia fino alla fine. Viva la Lega, viva la Lega di Bergamo. Grazie e buon anno a tutti!